Io sono Helpman Ech, ech, oh, 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 ok E adesso vediamo cosa c'è nel frigorifero Bene, bene, cosa abbiamo qui? Melanzane, carote, cavoli! Io no, neanche io in realtà Ai, 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 e come facciamo adesso? Vado a chiamare Helpman Qual era il numero? Qualcuno mi sta chiamando Helpman in ascolto Pronto Helpman, stiamo preparando una zuppa e non sappiamo come fare Aiutaci per favore Ho capito tutto Oh! Con lo scotch si può incollare molto Ma non ci aiuterà a cucinare Un'arice trasmittente Con un'arice trasmittente si può parlare 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova Non ci aiuterà a cucinare Una lente di ingrandimento Con il suo aiuto possiamo cercare le cose Ma noi dobbiamo cucinare oggi? No Oh! Un libro di ricette Qui ci sono tantissime ricette Proprio quello che ci serve Sono pronto all'azione E come è arrivato? A qualcuno serve il mio aiuto? A noi serve aiuto con la zuppa Prima di tutto ci serve scegliere una ricetta Qui ci sono tantissime zuppe Come la zuppa zio E poi c'è una zuppa con un nome bellissimo Paesaggio Vedi? Qui ci sono degli alberi di broccoli E il sole di carota Va bene Facciamo la zuppa paesaggio Piano piano Prima dobbiamo vedere quali verdure ci servono Broccoli Carota E cipolla verde Noi abbiamo tutto Ecco i broccoli La carota E la cipolla E la cipolla E la patata Per il purè Le verdure vanno sempre lavate prima Adesso dobbiamo bollire le verdure I broccoli Le carote E le patate Versiamo l'acqua Mettiamo il coperchio E accendiamo il fuoco Vediamo cos'altro dice la ricetta Nel piatto con il purè Dobbiamo tagliare i broccoli Oh! E le verdure sono già pronte Spegniamo il fuoco Mettiamo la patata nel piatto Attenzione E così facciamo il purè E il purè è pronto Adesso dobbiamo tagliare i broccoli Adesso prendiamo i broccoli E li mettiamo nel piatto Oh! Proprio come degli alberi Cos'altro dice la ricetta? Adesso guardiamo Decorare con la cipolla Oh! Sembra erbetta E il sole Di carota Prendiamo la cipolla E E la spargiamo Sul purè Ah! Opla! Prendiamo la carota Ne taglio un pezzettino Ed ecco il nostro bel sole Oh! E poi nella ricetta ho letto della panna acida Oh! Certo! Vedi? Il cucchiaio con la panna acida E la zuppa paesaggio è pronta E adesso confrontiamo con quella del libro E' uscita simile Il sole Le nuvole Gli alberi E l'erbetta Come nel disegno Il sole Le nuvole Le nuvole Gli alberi E l'erbetta Buon appetito Macchine Oh! Ma è bellissimo! Sì! E' proprio appetitoso Mh! E' proprio buono Questo sole Mh 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 Sì! E' veramente speciale Non c'è di che ragazzi! E tu Iscriviti al nostro canale E guarda i nostri prossimi video Ciao!